Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a nord-est. Tre giovani tra i 22 e i 23 anni originari della provincia di Udine, un uomo di 43 anni di nazionalità slovena, sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli Udine, volta allo smantellamento di una rete di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre cinque persone risultano indagate. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, il gruppo aveva un canale principale di rifornimento alla Slovenia e spacciava la droga nel territorio di Udine anche tra i giovani. Aveva inoltre realizzato un video promozionale da diffondere tra i ragazzi. L'operazione denominata SLAI è iniziata nel febbraio del 2018 a seguito di un controllo dei carabinieri durante il quale era stata sequestrata una piccola quantità di marijuana e hashish. Si stima che il giro di affari valesse centinaia di migliaia di euro. I carabinieri hanno sequestrato circa 3 kg di stupefacente tra marijuana, MDMA, cocaina, LSD e contante per oltre 50.000 euro. Un altro inseguimento trasfrontaliero è venuto nei giorni scorsi a Gorizia dopo quello di martedì mattina a Trieste. Protagonista della fuga finita con una denuncia per guida in stato di alterazione alcolica, una cittadina slovena di 36 anni, priva della vigneta autostradale fermata dal personale della DARS in territorio sloveno, la donna si è allontanata senza fermarsi entrando in Italia attraverso il valico della Casa Rossa a Gorizia inseguita dalla polizia slovena. Attivato il protocollo di intervento in caso di inseguimento trasfrontaliero, il mezzo è stato individuato e fermato da più equipaggi nei pressi della strada del Ballone nel comune di Doberdo del Lago. Sottoposta all'alcol test, la donna è risultata positiva ed è stata quindi denunciata dal personale del commissariato di Duino Aurisina. Un 45enne che stava lavorando a bordo della propria barca ormeggiata al villaggio del pescatore a Trieste è stato colto da un improvviso malore andando in arresto cardiaco. Subito sono scattati i soccorsi, l'equipe del 118 ha praticato le manovre di rianimazione. Il 45enne è stato quindi stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Catinare in condizioni che restano comunque gravi. La polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento e disturbo alle persone due ventenni, entrambi residenti nel comune di Duino Aurisina. Si tratta di un monfalconese di un triestino, due hanno litigato animosamente all'esterno di un bar molestando gli altri avventori e danneggiando alcuni bicchieri e una griglia divisoria in legno. Sul posto è arrivato un equipaggio del commissariato di Duino Aurisina, identificati due, ricostruito all'episodio dopo le formalità di rito, sono stati denunciati. Ed ora linea alla redazione di Treviso. Salva il fratellino donandogli il midollo tutto l'amore di Asia che ha guarito Mattia. Due anni dopo il trapianto la famiglia Marin di Monfumo ringrazia tutte le persone che hanno dato aiuto. Troppo traffico sui cieli di strana, mongolfiere fatte atterrare a pieve, cambio di rotta in volo. Quaranta viaggiatori, cinque velivoli hanno scelto di visitare il cuore dell'area Unesco. I cinesi di Treviso chiedono al sindaco uno stabile per la quarantena. Un'associazione locale di cinesi ha bussato alla porta di Conte per chiedere un immobile in caso di quarantena volontaria. Il sindaco ha dato la disponibilità. Travolto da un'auto in transito, operaio gravissimo, un incidente lungo la strada regionale 308 a Onigo di Pederoba, non distante dal cementificio. Sul posto ambulanza e automedica del SUEM 118 e carabiniere della compagnia di Montebelluna. Carcerato minorenne ottiene un permesso speciale per giocare a calcio. Il presidente della Lega Nazionale di Lettanti Veneto, Giuseppe Ruzza, si è regato in visita al carcere minorile. appunto al carcere minorile di Treviso per uno speciale progetto di riscatto attraverso lo sport. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. La variante di Rigolato del valore di 9,3 milioni di euro di quadro economico finanziati dallo Stato che verranno a breve erogati dalla regione Friuli Venezia Giulia è stato l'argomento focale dell'incontro tra l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio e all'amministrazione comunale della località carnica. Nel corso della riunione che ha aperto il confronto su una infrastruttura di indubbia importanza non solo per la cittadina ma per tutta la vallata è stata illustrata la prima ipotesi del tracciato viario ed è stato confermato che nell'ambito dell'intervento è prevista la riqualificazione del centro urbano. In merito il sindaco di Rigolato in vista della realizzazione dell'opera ha proposto di effettuare una valutazione complessiva dei problemi della viabilità del territorio comunale e la regione ha confermato che entro l'anno partiranno le operazioni di messa in sicurezza della strada regionale 355 del valore di oltre 300 mila euro. Sviluppo imprese è un provvedimento nato dall'ascolto e da un confronto serrato con lavoratori e imprese che propone un nuovo modello di sviluppo del sistema economico regionale del Friuli Venezia Giulia introduce significative novità anche nel settore del turismo e del commercio. Il disegno di legge illustrato dall'assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia ai componenti della seconda commissione del Consiglio regionale poggia su alcuni pilastri fondanti innovativi tra i quali la riforma dell'accesso al credito d'impresa, l'innovazione e la digitalizzazione di strutture e processi, l'economia circolare e l'efficientamento energetico, il supporto alle PMI, imprese giovanili e start-up, la riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio edilizio inattivo. Il decreto contempla l'istituzione di un tavolo permanente concepito per monitorare e prevenire e affrontare le crisi aziendali e le criticità che impattano su filiere e aree industriali e riorganizza su cinque fondi il sistema di credito agevolato. Accanto al FRIA, il Fondo per lo sviluppo delle PMI, dei servizi strumenti già ampiamente consolidati, sono previsti il Fondo di rotazione per il credito, il Fondo regionale di garanzia per le imprese e le nuove attività economiche e il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione dell'impresa in crisi con l'obiettivo di sostenere le realtà produttive sia nelle fasi critiche sia in quelle di rilancio della propria attività. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia, oggi cielo in prevalenza al Sereno con gelate nelle ore più fredde sulla costa e sulle zone orientali, dieve Borino in serata. Passiamo al Veneto, tempo stabile con cielo in prevalenza al Sereno, non si esclude qualche foschia in pianura alla sera. Temperature minime stazionarie in locale diminuzione su gran parte della pianura con valori diffusamente sotto zero, in aumento su zone montane e pedemontane stazionarie nelle valli, massime in aumento in quota senza variazioni di rilievo in pianura, marcate in versione termica durante le ore più fredde. Previsioni a cura di ARPA, FUG e ARPA, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione.